ciao a tutti sono jerry di la games e oggi andremo a fare l'unboxing di danny ultima pubblicazione di dal tenda che ce l'ha elargito come copia demo poi andremo ad applicare l'adesivio allora danny è un party game in cui si dovranno si dovrà capire fra le varie personalità multiple che che ci sono in gioco chi è denny e chi no andremo adesso da dirlo gioco e da 38 giocatori 30 minuti circa da 16 anni in su andiamo ad aprire vedremo cosa troviamo all'interno abbiamo il regolamento sono quante pagine vediamo 11 pagine comprese di ringraziamenti e due mazzi di carte che mi sembrano anche più grosse di quelle di magic di dixit vediamo cosa diamo qui un'immagine stilizzata tanti pesci chissà se sto facendo degli spoiler le carte sono telate addirittura quindi sono molto resistenti anche al tatto abbiamo tanti disegni e invece pace interiore anima l'impianto oriente mondo ok quindi abbiamo da un lato tante immagini dall'altro tante parole questo è tutto